Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 191esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie del mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa Questa nuova puntata è dedicata a due argomenti principali La prima riguarda le ripercussioni che si sono avute su Telegram a seguito dell'arresto di Pavel Durov E due notizie riguardanti due delle distribuzioni più amate e utilizzate nel panorama delle distribuzioni Linux Ovvero Ubuntu e Linux Mint La prima che vede l'introduzione di un nuovo strumento che va a migliorare la gestione delle applicazioni in formato Snap E va a aumentare la sicurezza La seconda che vede l'introduzione su Linux Mint di due nuove applicazioni che vanno a meglio gestire tutta la distribuzione Vanno a completare il pantheon delle applicazioni presenti su Linux Mint Ma prima di passare a questa puntata Prima di passare agli argomenti di questa puntata Vi ricordo che questa puntata è anche una puntata video Mi potete trovare anche su YouTube Quindi oltre ad ascoltare la mia sua dente voce Se volete potete seguirmi su YouTube E vedere il mio bel facino e le notizie che vado di volta in volta a commentare sulle pagine del blog Vi ricordo ovviamente di seguirmi, di mettere mi piace Insomma tutte quelle cosine che dicono tutti quanti gli YouTuber per aumentare il successo del canale Mi raccomando ci tengo molto ad avere un follow e un mi piace Facciamo salire Marcosbox ai fasti di un tempo Quando il canale era più seguito rispetto adesso Ho ripreso in mano da poco il canale YouTube Quindi datemi una mano a crescere Cresciamo insieme Ma apriamo subito la puntata Mettiamo a tutto schermo il nostro caro malto Firefox E passiamo alla prima notizia La prima notizia riguardante Pavel Durov Inutile che vi sto qui nuovamente a fare tutto quanto è il solito discorso su Pavel Durov Inutile che vi sto a ridire il mio pensiero sull'arresto di Pavel Durov Il mondo si è diviso tra persone a favore e persone contro Personaggi divisivi come Pavel Durov Come argomenti divisivi come questi Creano opposte fazioni Creano due schiaramenti Sempre così succede per queste notizie Quindi ci sta Anche sul canale Telegram di Marcosbox dedicato alla community Vi siete un po' scannati Vi siete divisi in due gruppi Al di là di tutto quello che significa l'arresto di Pavel Durov Al di là del mio pensiero personale Sulla vicenda C'è di concreto che Pavel Durov è stato costretto Ad iniziare ad apportare alcuni miglioramenti e modifiche al software In modo tale anche da Secondo me poter addolcire la pigra Poter addolcire la sua eventuale condanna Queste modifiche sono Due modifiche piccole per adesso Vedremo poi nelle prossime settimane Se verranno introdotte altre cosucce più incisive Che cosa ha annunciato Pavel Durov? Beh la prima cosa che ha annunciato è che Verrà rimossa la funzionalità persone delle vicinanze Una funzionalità che secondo Pavel Durov Veniva utilizzata da meno dello 0,1% degli utenti Telegram Effettivamente ci sta che una funzionalità del genere Non veniva utilizzata perché era abbastanza nascosta Dovete andare a attivare voi a manina Quindi non era una funzionalità preattivata Non era una cosa che veniva tanto pubblicizzata Quindi ci sta che non veniva utilizzata dagli utenti Però a quanto pare veniva utilizzata Da bot, da truffatori che utilizzavano questa funzionalità Per attività illecita Io l'ho utilizzata spesso questa funzionalità Mi divertivo ad attivarla nelle varie parti della città Per andare a vedere un po' chi c'era nelle vicinanze E vedevo che spesso e volentieri c'erano canali illeciti Che vendevano roba illegale e quant'altro Quindi i truffatori sapevano di questa funzionalità E immagino che anche i clienti di questi truffatori Anzi di truffatori e di gente che cercava determinate cose su Telegram In acquisto Erano bene a conoscenza di questa funzionalità Ben venga che venga rimossa a questo punto Anche perché era una cosa molto inutile Fra l'altro poi mi è stato anche detto In un commento su Mastodon Che questa funzionalità poteva essere utilizzata Addirittura per triangolare le persone Devo approfondire un po' per questa cosa Perché a questo punto è molto inquietante Vabbè Fatto sta che Come dicevo Anzi è stata già rimossa Perché nelle ultime versioni di Telegram Sia per iOS che per Android non la vedo più E al suo posto arriverà una funzionalità Immagino anche per fare cassa Chiamata Business Nearby Che metterà in mostra attività commerciali Riecite, legittime e verificate E queste attività commerciali Che vorranno utilizzare questa piattaforma di Telegram Potranno mostrare i cataloghi dei prodotti che vendono E Padre Duro avrà utilizzato questa frase Accettare i pagamenti senza problemi Non so che cosa vuole significare una cosa del genere Microtransazioni in arrivo su Su Telegram Boh Vedremo che cosa Che cosa bocca in pendola E inoltre è stato disattivato Il caramecaimento di nuovi contenuti multimediali Su Telegraph Telegraph è uno strumento di blogging presente su Telegram Uno strumento di blogging autonomo Che effettivamente Anche io personalmente non l'ho mai Non l'ho mai approfondito Non l'ho mai utilizzato Io mi limitavo ad utilizzare Telegram per il canale E per parlare con alcuni amici che sono su Telegram Che a quanto pare anche questo strumento veniva utilizzato impropriamente da attori anonimi Così come è stato detto da Pavel Duro Quindi va a togliere queste due funzionalità che potevano essere utilizzate da criminali Che con le loro attività Hanno messo anche in Diciamoci In cattiva immagine l'intera piattaforma E ben venga che si intervenga su queste cose Vediamo come vi dicevo Che cosa boga in pentola Sul Telegram per le prossime settimane Se verranno fatti altri annunci di modifiche Qua e là Basterà questo a far addolcire la pillola Per la condanna di Pavel Durov Lo vedremo Lo vedremo nei prossimi mesi Io ritornerò sulla vicenda E cambiamo adesso argomento E passiamo a parlare di Debian Debian perché c'è stato il rilascio della versione 12.7 di Debian E una Point Relase Sapete bene come funzionano le Point Relase di Debian Del canale star di Debian Sono praticamente i rilasci di nuove ISO di Debian Quindi se voi avete già installato una versione stabile di Debian E l'avete continuato a mantenere aggiornata Non dovete fare nient'altro Se invece vi trovate a installare una versione nuova di Debian Una ISO nuova di Debian Potete scaricare l'ISO aggiornata E questa ISO contiene le principali correzioni per problemi di sicurezza Insieme ad alcuni fix per problemi seri Sulle pagine di Marcosbox ovviamente vi metto il link Con le immagini di installazione E cambiamo argomento Parlando di un argomento che mi sta molto a cuore Mi sta molto a cuore perché Ve ne ho parlato diverse volte sulle pagine del blog Ovvero il problema del finanziare i nostri progetti open source E di finanziare le distribuzioni che utilizziamo Noi pinguini Sto prendendo delle pause all'ascolentano Per evitare di dire parole poco convenienti Noi pinguini abbiamo un po' le braccine corte Diciamo Anche perché i pinguini non hanno le braccine C'hanno le alettine Abbiamo battuto la squadra E spesso e volentieri non supportiamo adeguamente i nostri progetti preferiti E capita che molti progetti Cadano nel dimenticatoio Perché semplicemente lo sviluppatore Dovendo farlo Non come lavoro principale Ma per hobby A un certo punto devi dire Metto il piatto a tavola Oppure mi dedico a Linux Mi dedico al progetto open source E se non ci sono abbastanza entrate economiche Noi ci preferisco mettere il piatto a tavola Mantenere la famiglia Ovviamente Mi sembra anche giusto E a quanto pare Anche Alejandro Colomar Attuale manutentore del progetto Linux Montpage Pensa la stessa cosa E ha deciso di prendersi una pausa Dal lavoro di manutentore del progetto Negli ultimi 4 anni Alejandro Colomar Ha curato il progetto Linux Montpage Come volontario L'ha fatto nel suo tempo libero L'ha fatto in forma totalmente gratuita Perché non ha avuto Fino adesso Mai nessuna azienda Decisa In grado di sponsorizzarla Quindi Né Red Hat Né SUS Né Anche Arta Canonica Chi più ne ha più ne mette Nessuno Gli ha dato Zisky E giustamente Lui ha deciso Di Di mettere in pausa Il suo contributo Al progetto Linux Montpage Perché Perché ha bisogno Di pagare l'affitto Di mettere il piatto a tavolo E quant'altro Ed è una cosa molto triste È una cosa molto triste Perché Ripeto Fa capire come Tutto quando Il nostro La nostra passione Il software libero Le nostre distribuzioni preferite E quant'altro Si reggono Un po' troppo Sui contributi volontari Delle persone Sì è vero Ci sono Parti Parti importanti Che Vengono supportate La gestione del kernel Linux Viene supportata attivamente Viene sponsorizzata attivamente Quindi C'è gente che Viene pagata Per Per sviluppare il kernel Linux Per applicare patch E quant'altro Grazie a contributi Di Vari big Che Che utilizzano Il Utilizzano Linux E che quindi Per loro Torno al conto Personale Pagano Pagano Gli sviluppatori Per poter Portare avanti la baracca Però ci sono tutti Quei progetti secondari Che Vedete Funzionano Funzionano fino a quando Uno ha la forza Di poterli mantenere Poi dopo Arriva Arriva il momento Che Uno è costretto A gettare la spugna Triste Dovremmo cercare Di Martire Che ne so Di fare Una piattaforma Noi Di finanziamento Per questi progetti Noi utenti Dovremmo cercare Di mettere su In modo tale Che tutti Questi Autori Di applicazioni Di Manuali Di traduzioni Chi contribuisce Con le traduzioni Perché ci sono tanti Modi di contribuire A un progetto Open source Dicevo Dobbiamo fare in modo Che queste persone Possano anche Avere un tornaconto Economico Possano avere un riscontro Economico E Magari Trassommare Questa loro passione Nel tempo Anche in un lavoro Per poter Poterci Poterci Vivere Vedi Magari Faccio io Una bella piattaforma Che dite Riusciamo A concentrarci A trovare un modo Per mettere su Una piattaforma Di questo tipo Uniamo le idee Dai Lasciate magari Un commento Sulle pagine Del blog Ovviamente Alejandro Ha detto anche Che lui è interessato A continuare Questo progetto Però Se Magari Trova qualche sponsor Qualche azienda Che decide Di supportare Il suo lavoro Vabbè Andatevi a leggere L'articolo Sulle pagine Di Marcosbox Per maggiori dettagli E prima di passare Alle ultime due notizie Di questa puntata Del podcast Di Marcosbox Fatemi fare Una piccola Momento Recreme Sponsorizzazione Sono Sono diventato Affiliato Da qualche tempo Da qualche settimana Di Geekom Geekom produce Mini PC Già la scorsa settimana Vi ho fatto Un articolo A riguardo Su un loro nuovo prodotto E Questa settimana Ci tengo A segnalarvi Che mi hanno dato Un codice sconto Personale Per Marcosbox Che si chiama Il codice sconto GK Marco 15 Lo potete trovare Nel bannerino Che vedete qui Sulla destra E se mi seguite Su Youtube È un codice sconto Che vi offre Ben il 15% Di sconto Quindi se voi Acquistate Il Geekom 7 Con questo codice sconto Dedicato Al lettore di Marcosbox Che potete pagare 764 euro Anziché 899 euro Io Sto credendo Molto In questo Questo prodotto Perché ne sento Ne sento Ben parlare Da diverso tempo Fino alla fine Prenderò uno Di questi Di questi Mini pc Sto seguendo Diversi Goro prodotti Sto vedendo Un po' Di metter Anche Un po' Di risparmi Per poterli Acquistare Ci tengo Anche a chiedervi Una cosa Se voi Avete acquistato Un computer Da Geekom Fatemelo sapere Lasciate un commento Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questi prodotti A livello Di prestazione Ma soprattutto A livello Di gestione Termica Come vi trovate Ma in particolo Ci tengo a sapere Da voi Visto che Se l'avete acquistato Per installarci La vostra distribuzione Linux preferita Ci tengo a sapere Da voi Come sono A livello Di supporto Hardware Montano comunque Componenti Che non dovrebbero Dare problemi Per noi Per noi Pinguini Però Non si sa mai Fatemi sapere Lasciatemi un commento Sulle pagine Del blog O il cui In calcio Il video Parandomi Dei vostri acquisti Di prodotti Della Geekom Magari Se avete Anche segnalazioni Negative Ditemelo Che Vi faccio io Da portavoce Nei confronti Di Geekom Magari Cerchiamo di Risolvere Assieme Anche Eventuali Problematiche Ripeto GK Mark 15 Per ottenere Il 15% Di sconto Sui prodotti E Passiamo alle ultime due notizie Della puntata Le ultime notizie Di cui vi parlavo Ad inizio puntata La prima riguarda Ubuntu 24.10 Che migliorerà La privacy La sicurezza Della sicurezza Delle applicazioni In formato snap E come lo farà Lo farà Grazie all'introduzione Di una nuova applicazione Che va A consentirci Di andare A modificare L'autorizzazione Delle varie applicazioni In formato snap E' una cosa Che già abbiamo visto Su flattopack Perché c'è un'applicazione In terza parte Su flattopack Che consente Di fare la stessa cosa Adesso Questa cosa Viene presa Dall'iscrivatori Di canonical E integrata All'interno Di ubuntu E' una cosa Un po' complicata Perché sfrutta L'implementazione Di apparmo Di ubuntu Quindi Si integra Perfettamente Con il sistema E come mi è stato Fatto notare Da alcuni Immagino Che sarà anche Difficilmente portabile Sulle altre distribuzioni Che utilizzano In formato snap Che cosa Consente Di fare Questa applicazione Consente Semplicemente Di andare A modificare I permessi Delle applicazioni In formato snap Quindi Che ne so Gli possiamo dire Che deve poter Scrivere Nella cartella Do god Oppure deve poter Scrivere In quest'altra cartella Si e l'altra no Insomma Andiamo A modificare Tutti quanti I settaggi Delle varie applicazioni Ed è una cosa Che Sarebbe dovuto Arrivare Già Già Da ieri Perché E' una cosa Importante Per la gestione Dell'applicazione In formato snap Vabbè Finalmente Comunque Ci sono arrivati Che hanno deciso Di implementare Il tutto E Verrà tutto Gestito All'interno Di una nuova Schermata Delle impostazioni Di gnome Security center Lì andremo a gestire Questa Gestione Dei permessi Delle applicazioni E una funzionalità Optin Come si dice In gergo Cioè non è che viene Preattivata Quindi dovremo andare noi A attivarla E andare qui a fare I settaggi Delle varie Impostazioni Se siete masochisti E volete già Provarla In anteprima E' possibile Farlo anche Sul punto 24.04 LTS Come farlo? Ve lo spiego All'interno Dell'articolo Che ho pubblicato Sulle pagine Di marcosbox Si tratta Semplicemente Di andare a cambiare Il Semplicemente Ci sono anche Ripercussioni Quindi potreste Avere Problemi Di varie natura Dopo aver fatto Questa cosa Dicevo Si tratta Di andare a cambiare Il canale Di rilascio Di snapd E impostarlo Su candidate E andare Poi a installare Le altre due applicazioni In formato snap Che ci consentono Di gestire Il tutto Quindi Il desktop security center E il prompting client Fatemi sapere Se avete Vuto modo Di provare Questa funzionalità Se la trovate interessante Lasciate un commento Sulle pagine del blog Io La posso provare Perché come potete vedere Ormai sono in pianta stabile Su pop os Su Cosmic Quindi mi sono accasato Perché come vi ho detto Già nelle precedenti puntate Ho deciso di seguire Lo sviluppo di Cosmic E quindi Non mi smuovo da Da pop A meno che non si autodistrugge lì E vabbè E passiamo diciamo All'ultima notizia Di questa puntata Del podcast di Marcosbox E parliamo di Linux Mint Vi avevo detto che Allora Piccola premessa Il team di Linux Mint Mi è andato Mi da messo Sapete bene Che è un Diciamo così Un vizio Il vizio è quello Di prendere applicazioni Forcarle E riadattarle Per la distribuzione Lo fa anche Della volta A fini Utili Perché magari Abbiamo visto Tutti i figoni Dei Xapp Hanno deciso Di forcare Perché Erano applicazioni Che non erano compatibili Con tutti quanti I vari ambienti Desktop Di Linux Mint Che non si integravano bene Quindi hanno deciso Prendiamo una versione La forchiamo A un certo punto E la andiamo A mantenere noi In modo tale Da renderla Supportata Compatibile E migliorata E lo fanno Spesso Lo fanno Quei di Linux Mint E non so Ancora Effettivamente Do riesco A trovare Tutta La forza Per mantenere Tutte queste cose E adesso Si sono sobbarcati Anche Il mantenimento Di altre Due applicazioni Due applicazioni Che si chiamano Rispettivamente Captain E APT Kit Che cosa Hanno visto Che cosa Hanno capito In tema di Linux Mint Hanno deciso Di fare una Puglia Razionalizzazione E modernizzazione Di APT E tutte Quelle librerie Come APT Daemon O Package Kit Per la gestione Dei pacchetti Perché hanno deciso Di farlo Perché Molte delle applicazioni Presenti su Linux Mint Utilizzano queste librerie Basti pensare Che ne so Il software manager Il gestore degli aggiornamenti Il driver manager Anche i menu di Mate I menu di Cinnamon Utilizzano Queste componenti Per il loro funzionamento E c'è un problema Di fondo Su queste APT E tutte Queste librerie Di cui vi parlavo Questi strumenti Non sono Mantenuti In maniera Ottimale Del tempo Non sono stati Mantenuti in maniera Ottimale Del tempo Perché Sono state APT E tutti quanti Questi strumenti Queste librerie Sono stati scritti Più di un decennio fa Non sono più Mantenuti a monte E di volta in volta Linux Mint Ubuntu E Debian Li hanno patchati Nel corso degli anni Per farli continuare A funzionare Quindi Si tratta di Applicazioni Che sono Prese Mantenute vive A furia di Di cuciture Varie Come quei vecchi Quei vecchi jeans Che amate tanto Che vi trovate strappati E poi Voi continuate a Rammendare Il jeans è ancora vecchio Lo trovate Tutto Frankenstein Statico Però E l'ho continuato A utilizzare Perché vi serve Per questo Gli sviluppatori Di Linux Mint Hanno deciso Visto che Questi componenti Ci servono Inutile che Siamo qui A utilizzare Qualche cosa Di vecchio Prendiamoli Forchiamoli In modo tale Da poterli mantenere Di poter aggiungere Nuove funzionalità Di poterli Portare avanti Nel tempo E che cosa hanno fatto Hanno deciso Di fare Difondere GDB E AptiURL In un'applicazione Chiamata Captain Se cliccate Sul link Presente Sulle pagine Di Marcosbox Vi rimanda Anche Alla pagina Github Di Captain Che vi spiega Che cosa fa E poi Hanno deciso Di fare la stessa cosa Anche per le librerie Quindi hanno preso La libreria AptiDemon E Mint Common AptiDemon Che sono state fusi In un'unica Libreria Chiamata AptKit Anche in questo caso Come potete vedere C'è la pagina Su Github I contributori In questo caso Sono Clement Lefebvre Fabio Fantoni E Michael Webster Vediamo se Per tutti e due Per tutti e due Di questa applicazione Quindi Attualmente I contributori Principali Sono Il patron Di Linux Mint E altri due Sviluppatori Buona Una cosa buona Spero di sì Per Linux Mint Spero che Questa decisione Non comporti Una Diciamo così Dispendo troppo Di energia Spero che riesca A mantenere attiva Queste applicazioni Il creazione Delle applicazioni Di Linux Mint Sta diventando Davvero sostanzioso Vi ripeto Io mi chiedo Ogni volta Come cavolo Fanno quelli di Linux Mint A mantenere tutto Sono in gamba Forse Sono programmatori Tutti quanti Programmatori in gamba Voi che cosa Ne pensate di questo Fatemelo sapere Nei commenti Infine Sempre dal mondo Di Linux Mint Arriva una notizia Riguardante Il tema Scusate Di Cinnamon Il tema predefinito Su Linux Mint Gli sviluppatori Si sono concentrati Attualmente Su Il tema Mint Y Che è il tema Di default Di Linux Mint Che è il tema Predefinito Di Linux Mint È un tema Che viene mantenuto Costantemente aggiornato Modernizzato E quant'altro C'è però Un altro tema Il tema Quello di default Di Cinnamon Che non viene Aggiornato Non viene aggiornato Dalla notte Dei tempi Il tema Di default Di Cinnamon Che è brutto È bruttissimo Se lo voi Lo installate Di fuori Di fuori Di altre distribuzioni Vi trovate Con quel tema Orribilante Se lo installate Su Arch Linux Vi trovate E poi dovete andare A cercare Un tema Sulla storia Di temi Di Cinnamon Che sia Guardabile Ed è anche Un'impresa Difficile Perché I temi Per Cinnamon Scarseggiano Scarseggiano Molto Per quanto riguarda Cose carine A livello di design Molti sono Anche Ci sono Disrupatori Che Non so Niente a piangere Sono pensato Ad alcuni temi Che ho pronto Niente a piangere Che cosa sogniamo Comunque Hanno deciso Di dare attenzione Anche al tema Di default Di Cinnamon E quindi Avremo anche Un tema Di cinnamon E il tema Di default Più curato E lo vedremo Con l'arrivo Di cinnamon 6.4 Manca poco Ecco Ecco Questa Ultima notizia Si conclude Qui Questa 191esima puntata Il podcast Di Marcosbox Io vi ricordo Di seguirmi Sui social Mi trovate Su facebook X Mi trovate Su youtube Mi trovate Sulle principali Piattaforme Di podcasting Mi trovate Su linkedin Su mastodon E mi trovate Su telegram Dove sono All'attivo Un canale Dedicato alle notizie Un canale Dedicato alle community E un canale Telegram Che l'offerta Amazon Di Marcosbox Che potete utilizzare Per supportare Il canale Acquistando da Amazon Il codice Referral Di Marcosbox Che trovate anche Pubblicizzato Sulle pagine Del blog Vi ricordo Inoltre Che potete Supportare Marcosbox Anche Abbonandovi A NordVPN Abbonandovi O rinnovando La vostra VPN Se utilizzate Il mio link Affiliazione Potete Sfruttare L'ultima promozione Il momento E supportare Il blog Attualmente Come possiamo Vedere Possiamo avere Fino al 71% Di sconto Sui piani Di due anni Più tre mesi Extra Quindi Una buona Offerta Per NordVPN Fateci un pensino Se vi serve Una VPN NordVPN È tra Le migliori Presenti Sul mercato Anzi A detta di morte È anche La migliore Vi ricordo Inoltre Che Come ho detto Prima Potete supportare Il blog Anche Con Il mio Referral Sul sito Di Geekom E vi ricordo Inoltre Se volete Potete Acquistare Un computer Questo non è Una cosa Referral È un favore Che faccio A Reware E a Shopmax Ufficio Che vendono computer Ricondizionati I quali potete Avere anche la possibilità Di aver ripristallati Con Linux Sulle pagine Trovate i rispettivi Bannerini Cliccandoci da sopra Potete Avete Accesso Alle pagine Di Reware E Shopmax Per poter acquistare Un computer Ricondizionato Da Gore Che Non fa Ma male Perché Fa bene L'ambiente Fa bene Il portafoglio Ci rende anche Pinguini Più soddisfatti Di poter Dare nuova vita A macchine Non più utilizzabili Ecco Questa Ultima notizia Si conclude qui Questa puntata Longa vita e prosperità A tutti quanti Ci riascoltiamo Anzi La prossima settimana Con la prossima puntata Del podcast Di Marcos Box Ciao ciao